Messo fuori da Rigoni, poi colpisce malissimo, Marasciao, c'è la rovesciata! E' il 2 a 3 della Sassuolo con la super rovesciata che vale il vantaggio della squadra di Piovanni. Dovrebbe essere stata Monterubiano aver segnato un gol fantastico che entra di diritto nella goal of weeks della settimana. Arriva la torre, lo strepituoso gol di Monterubiano, è la sua doppietta, è la sua giornata. Sorride, quasi commossa Monterubiano.